E' già che la verità è solo un'immaginazione che una certezza proprio non ha, ti vuoi avvicinare e questo servirà, ma è sempre un'interpretazione in che il contrario non andrà, guardi l'immagine che è dentro di te per ricercare la tua verità, usando il metodo scientifico osservazione, analisi, esperimentale, cia e la verità è solo un'immaginazione se una certezza proprio non ha, ti vuoi avvicinare e questo servirà, ma è sempre un'interpretazione sì che il contrario non accadrà, dopo che hai visto il mondo chissà se è rotondo, così sembra in fotografia pieno di mostri strani, manco di più gli umani, mortalità di ogni fantasia che la verità è solo un'immaginazione che una certezza proprio non ha va bene, immagina, immagine che già non è va bene, immaginazione ecco il rapporto con la verità, niente è definitivo per te provi, 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 non ti fermi mai e intanto aggiungi i tagli e si intendi che la verità è solo un'immaginazione se una certezza proprio non ha, ti vuoi avvicinare e questo servirà, ma è sempre un'interpretazione sì che il contrario non accadrà